Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, nel pieno centro di Taranto, via di Palma. Una giornata particolarmente affosa, fa caldo, siamo in piena estate, ebbè, siamo al 28 luglio. Cosa volete? Ma vogliamo parlarvi oggi di una situazione particolare, questo tratto di strada, compreso tra via Crispi e via Regina Elena, che presenta delle criticità. Una zona un po' abbandonata, che sta anche diventando pericolosa per quanto riguarda la circolazione veicolare stradale. Intanto, la prima problematica, quella del degrado commerciale che sta vivendo l'area. Vedete, ci sono due attività, almeno due attività commerciali, che sono praticamente abbandonate a se stesse, giacciono chiuse, con le insegne tristemente spente e le saracinesche altrettanto tristemente serrate, sprangate da anni. Beh, qui c'è un discorso molto ampio, bisogna vedere la responsabilità, le responsabilità delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute, che davvero poco o nulla hanno fatto per riqualificare, per ravvivare la zona, affinché il commercio, le attività commerciali potessero trarne benefici. Ma, vedete, questa mattina sono rimasto colpito da un incrocio, un incrocio pericoloso, quello appunto insistente tra via Di Palma e via Crispi. Beh, devo dire che avventurarsi a fare anche certe riprese in punti proprio tristemente pericolosi, perché parliamo di incroci in cui le macchine vanno a cozzarsi, non è tanto semplice. Stamattina, munito di telecamera, ho visto e vi posso assicurare che l'ingorgo è davvero pericoloso, ma oggi, e cose sono andate bene di lusso, pensate tanti altri giorni in cui purtroppo si verificano incidenti stradali e poi vedete le ambulanze, poi vedete i vigili urbani. Probabilmente c'è una causa, una mancanza di rispetto della segnaletica da parte di chi viene, di chi percorre via Di Palma in direzione arsenale, non rispetta il triangolo del dare precedenza e va appunto a cozzarsi con le macchine che percorrono via Crispi. Basta una minima accelerata e il tuzzo, come si suol dire, si verifica. Beh, questa è una situazione che andrebbe meglio studiata da parte dell'ufficio traffico. Il comandante dei vigili dovrebbe anche pensare un po' a questa situazione. Parliamo di incidenti, di ingorghi pericolosi. Vi saluto e ho voluto farvi vedere questa zona centrale, bella, ricca apparentemente, questa zona di Taranto apparentemente ricca, che però vive e convive con il degrado e con il declino che sta caratterizzando Taranto e soprattutto il suo borgo, il suo centro storico. Dallo sportello del cittadino è tutto, alla prossima.